Oggi raccontiamo una bella storia di Fair Play che riguarda il nostro territorio, riguarda un campionato giovanile e riguarda Carlo Sogos, capitano della formazione allievi della scuola calcio della polisportiva Riccione che si è reso protagonista appunto di questo bel episodio contro il Verucchio domenica. Allora, raccontaci che cosa è successo. È successo che mi trovavo, sono entrato in un'area di rigore con qualche passaggio dei miei compagni sono trovato tu per tu con il portiere e mi sentivo anche due avversari dietro di me e anche un po' di contatto fisico dietro di me sempre. Nel momento che stavo per tirare sono inciampato da solo e l'arbitro, vedendo che c'erano due giocatori dietro di me, ha dato rigore subito. Io intanto stavo pensando che cosa fare, se dirglielo o no e non avevo capito bene la situazione anche perché già gli avversari si stavano un po' arrabbiando contro di me. Poi mi sono alzato, anche un mio compagno di squadra mi stava portando via per non dire niente e solo che dopo anche lui ha capito la situazione e mi ha lasciato andare. E sono andato dall'arbitro, gli ho detto come stavano le cose in realtà e alla fine non ha dato il rigore. Che cosa ti hanno detto poi i tuoi compagni e il tuo mister? All'inizio qualche mio compagno non è stato tanto contento perché comunque il risultato era sull'1-1 in quel momento e quindi potevamo vincere la partita dato che mancavano circa 5 minuti. Però il mister comunque si è complimentato con me anche nello spogliatoio, ha fatto un applauso. Applausi anche da parte di tutto il pubblico presente? Sì, infatti anch'io un po' mi sono emozionato in quel momento, anche gli avversari, tutta la squadra si è complimentata appena sono andato dall'arbitro a dirgli la verità e anche il pubblico comunque. Raccontaci un po' qualcosa di te, come hai lasciato la tua passione per il calcio? Io ho la passione per il calcio, l'ho avuta da sempre, anche sotto casa mia, giocavo con i miei compagni e ho iniziato all'incirca in prima elementare alla Riccione Valle Verde e sono stato lì un paio di anni, poi mi sono trasferito dove gioco adesso. Ho giocato anche un anno a Rimini, nel settore giovanile, però comunque mi sono sempre divertito, anche subendo sconfitte, dato che poi mi hanno anche mandato via da Rimini, non è stato tanto bello. La tua squadra del cuore? È il Milan. Quindi il tuo sogno è giocare a San Siro? Sogno, è un po' difficile, preferisco divertirmi in questo momento, dai. Arrivare a un certo livello, sì, però vorrei divertirmi. Hai ripensato al gesto che hai fatto domenica? C'è stato anche un momento in cui magari hai detto però magari avremmo potuto vincere? L'ho pensato subito, appena tornato negli spogliatoi, che comunque qualche compagno non era contento, pensavo ho fatto bene, ho fatto male, però ero sicuro della mia scelta, anche a casa. I miei genitori si sono complimentati con me, sono rimasto fiero della mia scelta. Insomma, è una cosa particolare, no? Quello di, diciamo, essere famoso nel nostro territorio, perché insomma da domani tu sarai un persangelo nel nostro territorio, per una cosa però positiva, non per una furbata, no? Sì, infatti io rimango comunque del mio pensiero e sono rimasto contento anche se qualcuno continua a dirmi che magari si poteva vincere la partita in quel momento, però io sto bene così. Il mister però insomma ti ha fatto fare anche l'applauso da parte dei compagni, quindi... Il mister era alla fine stato quello più contento dopo di me, e si è complimentato subito, anche dopo... E' lui che mi ha aiutato comunque. I compagni ti hanno detto qualcosa o lo faranno probabilmente domani, dopo che vedranno queste interviste? Penso di sì. Comunque erano pochi, quelli che dai... sono rimasti un po' male, però c'era chi comunque mi ha aiutato, sono stati contenti anche loro. Diceva anche i compagni di classe, tu adesso fai la seconda liceo. Sì, ancora qualcuno non lo sa, qualcuno sì, magari oggi ho cominciato a dirlo un po' ai miei compagni. Grazie e complimenti per questo bel gesto, continua così eh. Grazie, grazie a voi.